Buongiorno a tutti, sono Enrica Tanduo, ricercatrice presso l'Università Ca' Foscari al Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi. Faccio parte del gruppo CatMath della professoressa Signoretto che si occupa di catalisi e materiali. In particolare il mio progetto si chiama Venais, formulati naturali ed innovativi per una cosmesi efficace in Veneto.